Sono diventate critiche le condizioni dell'infermiera britannica affetta da ebola. Pauline Kafferkei è in cura in un ospedale londinese dove le viene somministrato del plasma di un paziente guarito. La malattia le è stata diagnosticata lunedì dopo il suo rientro in patria dalla Sierra Leone dove ha lavorato per l'ONG Save the Children.